Ora un'importante segnalazione, giovedì prossimo 2 marzo siamo invitati a partecipare in cattedrale ad una convocazione sul tema Chiesa e Città che vedrà protagonisti l'Arcivescovo di Palermo Monsignor Corrado Lorefice e Ivano Dionigi del nostro Ateneo. Monsignor Lorefice sarà anche protagonista della mattinata di studio offerta ai presbiteri all'inizio della quaresima dalla Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna. L'incontro serale, invece aperto a tutti, sarà introdotto da Monsignor Matteo Zuppi. Appuntamento dunque alle 21 di giovedì prossimo 2 marzo in cattedrale.